Alfiere Bianco presenta Stay at Chess, un progetto innovativo di formazione a distanza tramite webinar e lezioni personalizzate. Il nostro team di esperti accompagnerà giocatori, istruttori e insegnanti seguendoli nel proprio percorso di crescita, sia in ambito scolastico che agonistico. Eccoci qua, ciao a tutti. Io sono Sebastiano Paolizu, istruttore nazionale SNAC della Federazione Scacchistica Italiana e sono l'ideatore del metodo ideografico, un sistema pensato appositamente per i ragazzi per semplificare il loro apprendimento scacchistico. Sono il grande maestro Alessio Tega. Da diversi anni sono nel mondo degli scacchi come iogatore e allenatore di squadre olimpiche. Sono contento di partecipare insieme a voi al progetto Stay at Chess, dove potrò trasmettervi la mia esperienza agonistica, tecnica e tutto quello che ho vissuto grazie agli scacchi. Sono Alessandro Domenici, presidente di Alfiere Bianco. Vorrei trasmettervi l'esperienza che ho accumulato in questi vent'anni in cui faccio l'istruttore di scacchi a tempo pieno, sostanzialmente il mio lavoro. Ho creato molti progetti anche a livello di progettazione, di metodologie didattiche. Mi piacerebbe lavorare su questi aspetti e poterli trasmettere e condividere con tutti, a partire anche dall'ultimo progetto che è il Castel, che forse avete già sentito nominare. E quindi questo è lo spirito con cui abbiamo anche in generale creato questa idea. Sono Pierluigi Piscopo e sono un maestro internazionale di scacchi. Nelle mie partite sono sempre alla ricerca delle soluzioni più brillanti e mi piace trasmettere ai miei allievi lo stesso senso per l'iniziativa. Questa è anche la mia passione, la nostra passione e quindi sono sempre contento di poter prendere la scacchiera e condividere tutte quelle storie, quelle emozioni che sempre circondano il mondo degli scacchi e che ci hanno fatto sicuramente piacere così tanto a questo gioco. Buongiorno a tutti, sono Matteo Zoldan, Presidente di Cess Projects, Maestro e Istruttore di Scacchi dell'FSI, National Trainer della FIDE e fondatore del progetto Scacchi a Scuola che Cess Projects sviluppa a Milano e provincia. In questo difficile momento sono a vostra disposizione percorsi online dedicati sia a coloro che si avvicinano per la prima volta al gioco degli scacchi, sia a coloro che praticano già e vogliono semplicemente migliorare le loro competenze scacchistiche. Rimaniamo a casa, stay at home, ma non per questo rinunciamo a coltivare la nostra bellissima passione, stay at chess.